Radio Sound 24, la trovi in FM e DAB e in streaming ovunque ti trovi. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Sound 24. Oggi è il 29 marzo e siamo, ovviamente la guerra in Ucraina, ahimè, continua. Gli ucraini stanno dimostrando di essere degli ottimi combattenti, ma nonostante tutto la distruzione delle città ucraniche è in atto e quindi siamo vicini a quel popolo in questo momento di tragedia. A proposito di Ucraini, oggi il sindaco di Milano Sala ha chiesto soldi al governo perché ha detto che sui rifugiati ucranici c'è bisogno di un aiuto del governo. Ora, la risposta a Sala è che non deve, senza questuare, il sindaco pensi ad accogliere i profughi provenienti da quella nazione come hanno fatto altri sindaci, altri suoi colleghi di altre città, come hanno fatto le regioni, come la Lombardia, senza chiedere sempre soldi. Lui ha portato a Milano con le marce centinaia di africani senza chiedere soldi a nessuno, scaraventandoli in questa città e creando problemi di sicurezza a Milano. Per cui adesso per questi profughi che provengono da una nazione europea che è stata aggredita dalla Russia non è che bisogna chiedere soldi. Allora, io credo che sia più necessario che Sala chieda il rimpatrio, chieda alla Morgese il rimpatrio dei 50.000 clandestini che sono presenti nella nostra città e che sono a spasso per Milano. Altro che chiedere soldi per gli ucraini, a cui vanno aperte le porte, ma anche di più. Poi abbiamo una ragazza rapinata da marocchini, come ormai sta diventando purtroppo drammaticamente che è tragicamente un'abitudine. I marocchini sono sempre più autori di reati predatori contro le donne. Ricordo che un terzo di questi signori, di questi stranieri, sono in carcere e un terzo di questi arriva dal Marocco. Guarda il caso, tanto per non farci mancare nulla, come al seno, altro che chiedere i soldi per i poveri rifugiati ucraini. Cominci a mandare e a spedire in galera questi delinquenti e a spedirli a casa, rimandarli a casa magari con un bel charter, voli e navi che li riportino in Marocco. Poi abbiamo al Parco delle Grohane un'altra aggressione con un macete. Abbiamo stanziato proprio in questi giorni dei fondi per la videosorveglianza all'interno dei parchi, telecamere, nei parchi per 3 milioni e mezzo. Credo e mi auguro che questo stanziamento serva a evitare queste situazioni drammatiche di maceti che girano nei parchi. Dove invece girano purtroppo anche lì donne, bambini e anziani, ma purtroppo abbiamo anche questi signori con i maceti. Infine abbiamo le piazze tattiche. Sono quelle piazze colorate che Maran e Granelli avevano detto dovevano servire e portare sicurezza nei quartieri della città. Ecco, in zona Nolo, dove ci sono i residenti di Via Venini, sono esasperati perché su quelle piazze tattiche ogni sera si fanno concerti che durano tutta la notte con varie musiche, suoni ed altro. Basta vedere sul mio sito di Facebook, c'è un filmato di Milano, bella da Dio, e si vede che cosa accade in queste piazze tattiche. Una indecenza, una vergogna. Ma purtroppo questo per Maran e Granelli vuol dire portare sicurezza. Ne hanno fatte parecchie. E quindi potete immaginare con quanta felicità da parte dei milanesi. Ci risentiamo domani, stessa ora, domani ne abbiamo 30. Buona serata.